Si è svolto a Palazzo Lascaris il convegno Società Multietniche e Culture Femminili a Confronto, organizzato da PEN Italia con il patrocinio della consulta femminile. Tema dell'incontro i rapporti che si instaurano tra le donne che provengono da paesi e culture differenti. Il dibattito è stato arricchito dagli esempi di diverse esperienze di collaborazione tra le donne italiane e straniere in diversi campi.